Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme i biscotti iniziamo la preparazione dei biscotti usiamo 400 grammi di farina 00 già setacciata mettiamo 160 grammi di zucchero mescoliamo mettiamo un pizzico di sale adesso mettiamo il burro 250 grammi di burro morbido mescoliamo insieme la farina con il burro e il zucchero usiamo 3 torni di uova grattugiamo una scorza di limone ecco qua mescoliamo tutto insieme impastiamo con le mani insieme 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 ecco qua ho finito di impastare adesso lo mettiamo in un pezzo di pellicola e lo facciamo riposare lo mettiamo nel frigorifero per due orette dividiamo l'impasto a metà e adesso usiamo il mattarello con i fiori usiamo dei stampini per i biscotti usiamo il mattarello con i fiori 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 a 170 gradi, forno ventilato, teniamo la telea. Giriamo ancora i biscotti. I biscotti sono pronti, li ho lasciati cuocere nel porto per 15 minuti. Musica 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 Musica